Show della scuola licatese di kickboxing Tana della Tigre al Centurion disputato domenica scorsa al palazzetto Enrico Berlinguer di Ribera. I ragazzi del maestro Biagio Nogara hanno portato a casa otto primi posti e tre secondi su nove combattenti in gara. Varie le discipline in cui gli atleti si sono cimentati. Mattatore in casa della Tana della Tigre e Ivan Riccobene, capace di centrare tre primi piazzamenti nel light contact 45-50 kg e nel kick light 50 kg. Gradino più alto del podio anche per Daniel Riccobene nel light contact per atleti di 60 kg. Exploit anche per Paolo Fama nel light contact in un match riservato ad atleti del peso di 75 kg. Successo anche per Salvatore Marzullo nel light contact per atleti di 65 kg. Scendendo con l'età, soddisfazione e successo finale per Giuseppe Falsone nel kick light per atleti di 45 kg. Grande affermazione anche per Miami Balan nel light contact. Passiamo ai secondi posti. Nel kick light piazza d'onore per Vincenzo Cusumano nel kick light 75 kg. Per Angelo Iapichino sempre nel kick light per atleti di 65 kg. E per Gaetano Cellura nella categoria 60. Notevole la soddisfazione al termine dei match per il maestro Biagio Nogara. Sapevo che i ragazzi si erano preparati molto bene al suo commento, però sono sincero nel dire che non mi aspettavo tutti questi primi posti. Siamo andati oltre le più rosi aspettative e di questo voglio elogiare questi ragazzi che ogni giorno si allenano con impegno e dedizione. La nostra testa, conclude il maestro, è però già proiettata sulle prossime sfide. Il nuovo appuntamento sul ring per la Tana della Tigre è fissato per il 6 marzo, quando gli atleti licatesi saranno di scena al Palazzo San Filippo di Messina per una nuova tappa a livello regionale. Grazie.